salve a tutti amici un saluto al vostro corredesposito personal trainer eccoci qua ragazzi altro allenamento come vedete ogni settimana vi metto un allenamento per la definizione per un gruppo muscolare specifico questo oggi facciamo le spalle trapezi super set per cercare di stremare questi muscoli più possibile soprattutto di definirli poi chiaramente ragazzi questo fa parte di una strategia intera per poter ottenere dei risultati non è che fate solo l'allenamento calate di peso o solo la dieta o solo il cardio sono delle cose che vanno a intersecarsi tra di loro quindi oggi vi faccio vedere l'allenamento mettendo in conto che sto facendo più cardio e sto mangiando più pulito poi farò anche un video sull'argomento in settimana quindi partiamo con queste spalle come al solito l'invito è quello di iscrivervi al canale e lasciare un bel like se vi piacciono i miei video andiamo a vedere l'allenamento che sto facendo attualmente per la definizione delle spalle primo super set ragazzi tirate al mento al cavo 10 ripetizioni fatte meglio possibile siamo all'inizio cercate di farle bene quindi non troppo veloce non troppo lente fatevi arrivare la sbarra vicino al mento subito shurg con il bilanciere vedete altre 10 ripetizioni in questo modo veramente riscaldo bene la spalla tutto il blocco trapezio e la preparo agli esercizi successivi due minuti di riposo secondo super set militari press con manubri 10 ripetizioni senza fermarmi un secondo faccio subito appunto super set con le alzate laterali da seduto quindi altre 10 ripetizioni da seduto perché è ancora più intensi il movimento ragazzi sentite i muscoli assolutamente prendere fuoco infatti vedete subito 10 ripetizioni di alzate laterali da seduto sempre pure ripreso per tre volte questo super set e due minuti di riposo da tra una serie e l'altra ultimo esercizio di rifinitura queste alzate frontali al cavo ragazzi come vedete faccio 10 ripetizioni ma proprio per smaltire definitivamente le ultime energie vedete 10 ripetizioni anche qua due minuti di riposo e subito altra serie eccoci qua ragazzi allenamento finito sono stremato spero vi sia piaciuto perché è un momento che penso non è troppo complesso soprattutto nelle prime fasi di definizione ma vi da già la possibilità di sentire le spalle incendiarsi il blocco trapezio allenato bene e vi darà la possibilità comunque di fare già un grandissimo salto di qualità fatemi sapere che ne pensate ci vediamo nei prossimi video